La nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ancora una volta sotto la guida di Alessia Marcuzzi. Le prime anticipazioni sul cast di VIP sono state diffuse dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, sembrerebbe che tra i favoriti in assoluto vi è la showgirl Nathalie Caldonazzo, il rapper di Amici di Maria, Moreno Donadoni. Aldo Montano il chirurgo delle star Giacomo Urtis, l'inviato Medias e Roberto Poletti, la televenditrice palestrata Gil Cooper e l'attore spagnolo Iago Garcia. La produzione sta anche pescando da altri programmi televisivi e in particolare da Uomini e Donne e Grande Fratello. Sembra che nel cast dell'Isola dei Famosi 2017 vedremo Luca Speracchi, ex tronista e gli ex corteggiatori Andrea Melchiorre e Giulia De Lellis. Quest'ultimi sono stati avvistati di recente negli studi della Magnolia, la casa di produzione che si occupa per l'appunto dell'Isola dei Famosi. Stando a quanto scrive D'Agospia, tra i nomi papabili c'è anche quello di Francesca Cipriani, oggi opinionista e inviata di Mattino 5. Che in passato ha preso parte alla Pupa e il secchione condotto da Federica Panicucci. Dopo il diniego di Rocco Siffredi sarà Stefano Bettarini il nuovo inviato. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la messa in onda di questa nuova edizione del Rialati Show di Canale 5 è in programma il prossimo febbraio 2017, molto probabilmente la trasmissione partirà dopo il Festival di Sanremo, così da poter avere un bel po' di risalto sui giornali e in televisione.